Musica Col movimento del ghiacciaio un oggetto che viene accolto dal ghiacciaio viene portato giù fino alla lingua, fino al termine del ghiacciaio distruggerlo, distruggendolo e anche modificandolo e questo corpo lì era proprio in un posto dove era stato bloccato tra sassi, una conca si è trovato in una culla dove l'hanno trovato poi dopo 5.000 anni dopo Oggi questo Ötzi ci racconta la vita di quasi 6.000 anni fa è incredibile nessuno di noi pensava che avessero già le scarpe adatte anche i vestiti adatti per andare in quelle quote la narrativa dell'Ötzi è un patrimonio di tutto il nostro piccolo paese del Sud Tirolo e dobbiamo difenderlo e portarlo a molti a far capire che la vita nelle montagne è un'altra vita della città Vogliamo ricostruire la comunità dei microorganismi nello stomaco di Ötzi perché questo cosiddetto microbioma dice molto sulla salute di noi e vogliamo capire e fare un confronto tra Ötzi e diciamo noi Ma dal punto di vista archeologico è così importante perché ha dato veramente una spinta all'archeologia non solo in Alto Agile, non solo in Val Senales ma in tutto l'arco alpino Ha svegliato gli archeologi perché fino al 1991 nessuno aveva immaginato che a quelle quote si trovasse degli oggetti archeologici e addirittura una mummia così ben conservata con le armi e tutti i vestiti e i suoi attrezzi Dall'anno scorso abbiamo una piattaforma a 3.251 metri e la possibilità per chiunque andare su e orientata verso il posto dove fu trovato Ötzi 30 anni fa La gente può salire su con la funeria e vivere proprio in mezzo delle montagne come ha vissuto Ötzi all'epoca Siamo una valle a vocazione turistica e per noi è molto importante che stiano bene i nostri contadini perché se stanno bene i contadini viene curato l'ambiente il cliente che viene trova tutto bello in ordine, tutto curato e contento il cliente siamo contenti anche noi